1, 2, 3 Il Napo è il buono sconto che vale 1 euro Il 10% della spesa può essere pagato in Napo Se fai compere per 50 euro potrai pagare 45 euro più 5 Napo E averli è facile Potrai ritirarli agli urp delle 10 municipalità non appena riceverai il coupon a casa Se invece sei un turista ti saranno regalati nell'albergo in cui alloggi Ogni negoziante potrà spendere a sua volta il Napo come cliente in altri negozi E nel 2015 i commercianti che ne avranno raccolti di più Avranno dei servizi di avveglimento e di arredo urbano da parte del Comune Ricorda che l'uso dei Napo è un fatto volontario Per informazioni e per l'elenco degli esercizi aderenti alle iniziative